Viaggiato Pantheon, questo game è lo più alto Lo carrieremo lo stesso It's fine Va bene, va bene Un po' di pro players Questi possono fare lo scherzetto a livello 1 Oddio, Niko non è male, Grace non è male Orn è sempre Orn Per vincere i game consigli Eh beh, gioca bene Cioè, capito, è un po' difficile risponderti Ci dovresti dare qualche informazione in più Devo spostare sto robo? No, questo robo non lo devo spostare, questo robo sono io Lo lascerei lì Possibilmente, diciamo così Ok Me lo dai Lish Capiamo, me lo dai Lish Ah, lastardo Che fretta hai di stare in lane control Alla fine Me la potresti dare una manina qua Mannaggia, oh mannaggia Maltrattato da Razork Ancora con la pozza io, eh Impossibile imparare Dai propri errori Pensavo di essere crashato per un attimo Invece semplicemente non avevo cliccato lì Va bene Nami flashia l'utilizzato Interessante Dai, qui sta Bounsando back per caso Andiamo a proporre un lane gank bot Ahia, quella totta Quando doveva partire, infame E vabbè Sono meglio loro My bad Probabilmente potete salvare heads Sono stato un po' lento Perché non mi ha aspettato Grazie splashato Se è un criminale Mi crede di essere stato un po' slow Vabbè Buono lo stesso Oh no Questo è il momento perfetto Per scrivere in chat At least you didn't leash, bro È proprio questo è il momento, guys Il problema è che Karma è un po' distante Potrei provenire a guardare prima Grazie Tommy E' normale che ti è scivolato il mouse Ma qualcun altro vuole scivolare il mouse Su abbonati Per caso Chiedo Magari Anche qualcun altro Ha il mouse un po' scivoloso Ma non c'era bisogno di flashare Carmina Erano già andati, ragazzi Rimorto top lane At least you didn't leash At least you didn't leash Ecco Mi è scappato Alla fine Mi è scappato Guarda la Nico Com'è offensiva Guarda lì che roba Voglio fare perdere il carretto Close Non vi preoccupate, ragazzi Il nostro top lane Non sta assolutamente Facendo win trade Vi garantisco Che non sta facendo win trade Ve lo prometto Carina Graze Non gankerà top Non ti preoccupare Non è nella mia jungle top side Non te l'ho pingato sette volte Sarà un gank inaspettato Lui c'è un flash Prendiamoci un reset Va Ci prendiamo questa Qualc'altra spada E dove andiamo, ragazzi? Verso top Io non so se ho la jungle up top Perché Graze In teoria me l'ha rubato Ha già fatto il seno di golem E una vittoria E poi c'è pure il red Allora è il gran regalo Questo Il red era troppo Per essere Vero Impossibile muoversi Però la kill ha presa Nami Quindi Oddio Nami in realtà è broken Quando chiude Mandate Non lo è già vicino Però Le risorse su Nami Non sono male Still Era 0-3 Quindi Io non so Di Graze Se sicuro che lo stai facendo Perché se c'è Graze E salta dietro È un problema Providenziale Lo spawn del bulbo Incredibile Oh guarda Mi sono fatto prendere Bravo Ed Ok Mi faccio il dragon solo Visto che la botta ha fatto roba Così non li Infastidiamo Che danni L'executive pantheon Insane actually Ok Io resetterò un attimino Vogliamo provare Questa yum Vogliamo provare Sarà nemmeno Eclissi e la play Però la yum È interessante Capiamo Proviamo Vediamo se vuole fare due placche Purtroppo no Ma what Non è il tatonami Che senso Non è il tatonami Allora volevo Commitare di più Però C'era pure Lucian C'era Gran seccatura Erano 5 top All'improvviso Vabbè dai Ho preso 4 minion All'improvviso E' 0 All'accuso Ha preso la goccia Tardissimo Cacchio Sembra di essere lento Non so perché Pure le scarpe Boh Sembra di essere Lento Camminare Ed o no Occhio che magari Sono in 5 Ci vogliono Incaggiare La rediorna Ci può fare male Eeeh Siamo sicuramente Sbettano In intera L'accuso Graze Andavo di fretta Perché stava morendo Karma pinga il Nexus Ma non so Bro mi pare troppo Pingare il Nexus Mi pare Mi pare Mi pare Esagerato Come reazione A questo fight Pesso Cioè Non è andato bene Ma voglio dire Può capitare Suppongo Boh la Nico La Nico picchia La Nico picchia Sì ragazzi Ale Ale Dica Si però preferisco Il resto Allora Orn e Nico Sono un problema Ma è una mia impressione Non credo sia Una mia impressione Perché Perché hanno Intato i nostri Teammates Cioè Non c'era bisogno Di suicidarsi La Tiene Quello lì no Non lo possiamo uccidere Purtroppo È un po' difficile Ragazzi Abbiamo preso I draghi Direi che ci dobbiamo Accontentare Il fatto Abbiamo preso I draghi Per ora Io bisogna Recollare Non male Non male Vorrei resettare La Black Leaver Sindra si è fidata All'improvviso E da che era behind Adesso è utile Più che utile I ragazzi Ha trollato E 0 Ha fatto la in Ma basta Trollare Ragazzi Ma siamo forti Insieme Ma dove vai bro Ok Actually works Abbiamo fatto 2x2 Abbiamo già potuto giocare insieme Io l'ho dato Shaddam vero No Sindra è fidatissima Adesso Quindi se riusciamo a giocare insieme Aspettiamo il suo stanno Aspettiamo il POC di Ezreal Funziona Lui tra l'altro Il problema di questo Ezreal È che tipo Early game era fidatissima Poi col fatto che non ha buildato la Muramana Non ha Non ha spaiicato come doveva Possiamo fare il Baron Devo prendere l'ex gate Faccio tutto E dai Non perdiamo tempo Facciamo di piastra sto roba Non state mid Ah Questo era Nico Quasi ci sono 10 anni Minion qua Posso dire che è difficile Rendersi conto Il fatto che sia Nico Anche quando è ovvio Cioè anche quando dovrebbe essere palese Tipo i Minion là Non esistono Quindi Solo Nico può essere Però comunque tu vedi il Minion Non pensi Oh È Nico Pensi Oh e boh C'è un Minion Se me lo fai fare in solo Può venire Grace a rubarselo Assicurarci l'obiettivo Potrebbe essere carino Cosa vogliamo buildare? Questa Cdr forte dai Non è pieno Grace Lo batto Scopriamo Sicuramente Dobbiamo Più tranquillo Ah So much untupped power Alla fine abbiamo preso il controllo Il game sembrerebbe Karma è ancora agitata però Sempre trovabile Difficile a questo punto però Trovabile Perché magari non smettiamo di tradare Tecnica utile Che va bene ci dovremmo aver fatta oh no è grace non ci vedo sono accecato dalla smoke bomb l'avevo quasi mani shottato peccato mannaggia mannaggia una vittoria una vittoria il pantheon gameplay ti ho detto una vittoria una vittoria un'altra vittoria un'altra vittoria un'altra vittoria